Ma è stata una scelta dettata dalle circostanze. La scelta è di aver smesso di vendere i grattevinci in tabaccheria. Ad aver preso la decisione a due anni dall'apertura sono Mario e Antonio Papariello, padre e figlio originari di Salerno. Sono loro che si alternano dietro il bancone della tabaccheria lungo la via principale di Colle al Metauro. Coerenti a se stessi, rispecchiando il modo di essere e di approcciarsi alla vita, hanno detto stop alla vendita per una scelta etica. Noi inizialmente li avevamo messi, abbiamo fatto un contratto, li avevamo messi, ce li avevamo, poi li abbiamo dovuti togliere per una scelta etica. Perché vedevamo persone anziane giocare parecchi soldini e noi non volevamo essere complici di questa situazione, soprattutto per gli anziani. Doppia la faccia della medaglia. Da un lato gli elogi arrivati da più parti d'Italia. Dall'altro l'inevitabile perdita di determinati clienti. Ci sono stati tanti messaggi di persone che si sono complimentate, che hanno apprezzato la scelta. Ma così come c'è stata tanta altra gente che ha smesso di giocare qua e è andata a giocare da un'altra parte, o persa anche come clienti. Però questo non dice niente, non fa niente. Uno fa una scelta e una volta fatta è fatta. Se credi in una cosa la fa e poi come viene così ce la prendiamo. Grazie al profondo messaggio sociale veicolato con la scelta di togliere i gratte e vinci, c'è chi, da cliente della tabaccheria, auspica l'inizio di un circolo virtuoso. Secondo me come decisione è giusta, anche perché si vedono tanti casi di persone che buttano tantissimi soldi, anche perché sono alla disponibilità di tutti. Quindi come decisione è da ammirare, non è da tutti. Io sono contento per lui, spero che non sia l'unico. insomma.